L'Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassavalle del Coguinas punta decisamente alla promozione e al marketing del territorio, programmando nel bilancio di previsione del 2022 la ripartizione dell'avanzo di amministrazione. A derne notizie il Presidente e Sindaco di Osilo, Giovanni Ligios, nel bilancio di amministrazione 2022, queste le sue parole, abbiamo applicato all'avanzo di amministrazione una parte cospicua delle risorse dell'avanzo, 100.000 euro, saranno destinate alla promozione del territorio in continuità con iniziative intraprese in precedenza, come ad esempio la partecipazione all'Expo di Lugano e la realizzazione di un nuovo logo dell'Unione, con la collaborazione degli studenti delle medie. Il nostro obiettivo, a breve e a lungo termine, prevederà una fase di strutturazione delle attività ed il coinvolgimento di tutti gli attori principali e dei portatori di interesse dei territori. Le risorse, in questo primo passaggio organizzativo, saranno ripartite per redare e adottare un piano di marketing e di promozione. A breve verrà pubblicato il bando per la selezione di un esperto di marketing, creare l'Anglona Digital Library, un archivio antropologico visuale dei comuni dell'Unione, con l'acquisto di immagini filmati dall'alto valore tecnico ed estetico, prodotti da fotografi e videomaker professionisti, valorizzare la storia dell'Anglona e dei saperi delle comunità, partecipare agli expo e fiere del turismo esperienziale e agroalimentare di interesse internazionale con l'obiettivo di promuovere i paesaggi, gli attrattori, le comunità, i saperi e i prodotti agroalimentari di qualità degli 11 comuni dell'Anglona e della bassa valle del Coghinas, sostenere gli eventi principali del territorio, uno per comune, attraverso una ripartizione di risorse vincolata da un regolamento di conformità che premierà le manifestazioni storiche e identitarie maggiormente caratterizzanti dei comuni aderenti all'Unione.